L'Europa, come dicevamo prima, che continua concedendo il diritto di veto agli Orban di turno, è un'Europa che non risolverà mai il problema, perché abbiamo due tesi completamente diverse. La tesi di Orban, detta l'altro giorno, ai primi di luglio, vorrei sapere cosa ne pensa Giorgio Meloni di quella tesi, è che il suo paese, in Europa ed è giusto che sia così, deve essere un paese completamente omogeneo dal punto di vista etnico e per certi versi anche razziale. E credo che questo punto evidentemente ci mette su una strada totalmente diversa. I nostri paesi, gli altri grandi paesi europei, sono paesi nei quali esiste la diversità, perché esistono storie diverse e l'integrazione è fondamentale. Allora la storia ci dice che solamente attraverso una politica migratoria comune, nella quale tutti insieme ci facciamo carico di redistribuire i flussi, in modo tale che non siano soltanto i paesi righieraschi, i paesi che stanno sul Mediterraneo, come l'Italia, noi abbiamo tutto l'interesse a che ci sia questa solidarietà europea. Se noi non vogliamo un'Europa che va più avanti, noi semplicemente andiamo contro i nostri stessi interessi, perché poi ci ritroviamo da soli a gestire, da più grande paese del Mediterraneo, flussi che non siamo in grado di gestire. Grazie a tutti.